Wow! Ho ricevuto una gelatina Uba Bubba! Che fortuna! E io ho ricevuto una Kit Kat! Fantastico! Wow! Ragazze! Io adoro la Fanta! Bene, dai, su! Senti, vai! Ok, io adesso la mangio! Wow! Che buono che è! Oh sì, mi piace! Ragazze, guardate! Faccio una bolla! Guardate, guardate! Ma cosa dobbiamo vedere? È piccolissima! Sì, sì, è piccolissima! Ah, così! E adesso ne farò una gigantesca! Ecco! Dai, su! Vieni qui! Sì, così! E adesso, ecco, faccio la bolla! Wow! Che bello! Brava, Sandy! Guardi! Sì, sì! Ok! E questo è solo per me! Cosa? No! Non farla! Se no, scoppia! Ma no! Di cosa avendo paura? Oh no! Cavolo! Ma adesso non potrò lavarmi! Ma sì, avevate ragione! Dai, su, Molly! Vai! Sì, bene, bene! Io voglio provare! Ah, ma perché? Ma cosa? Non riesco a schiacciare? Dai, su! È così difficile! Dai, su! Dai, così! Ce l'ho fatta, quasi! Alleluia! È così buona! Io ho un'idea! E se chiudo il tappo, è scuoto per bene la bottiglia! Io penso che sarà qualcosa di bello! Che fai? Non farlo! Dai, ragazzi! Basta! È tutto sotto controllo! Ok, e adesso? Io non mi aspettavo da cose del genere! Ma questa cos'è la gelatina? Vabbè, è bello! Sì, ragazze, ma che fate? Ok, e adesso provo io la gelatina ed è cioccolatosa! Sì, è così buona! Ok! Wow, che fortunata che sono! Io ho i bastoncini pochi! E tu cos'hai? Ehm, non lo so! Vabbè, è una scatola molto strana e mi fa paura! Sandy, è tu qualcosa di bello! Sì, guardate! Uh, che carino che è! Ma presa! Uh, che ridere! Sì, bello! Ragazze, posso cominciare io? Ok, voglio provare i miei bastoncini! Oh, io li adoro! Sì, buonissimo! Posso mangiarli sempre! Oh, anch'io vorrei provare! Cosa dici? Ah, sì, va bene! Ma dove vai, Sandy? Mmm, buono! Ok, serpente, sei pronta? Dai, su, prendi! Eeeh... Sì! Uh, ce l'abbiamo fatta! Uh, che bravi che siamo! Ah, che male! Ah, io mi sono ammorsa! Ah, dove vederti? Che bello! Ma dove vai? Oh, finalmente posso assaggiare! Ma chi è che ruba qua? Ah, sei tu un serpente! Wow, io ho trovato un lecca-lecca ed è molto buono! Ah, Molly! Dai, dammelo! Ah, sì, ragazze! Uh, sì, cos'è questo asilo? Devo scoprire... Cos'ho là! Uh, che carino che è, però! Aspetta! Cos'è? Un scarapaggio? Ah, toglielo, toglielo! Ma dai, ragazze, non ascoltarla! Non ti darò nessuno! Non fai paura, sei molto carino! Oh, gli piace quando... Ho finito accarezzato! Aiuto! Ah, si salve chi può! Uh, che bravo che sei! Uh-oh! Ma queste sono le patacine più piccanti, no! Oh, e io ho il gelato alla fraga con gli zuccherini! Uh, è da sbavare! E io ho mentos! Che bello! Oh, sì! Scusate, posso andare per prima? Sì, grazie! Ok, proviamo! Oh, sì, è buono! Questo gelato è fatto per essere mangiato da me! Sì, anch'io voglio leccarlo! Ok, ok, dai, Dorit si aspettano! Sì, grazie che me l'hai ricordato! Io non voglio provare queste patatine! Uh, ce n'è solamente una ed è gigantesca! Non ce la faccio! Dai, su! Cavolo! Ok! Mamma, io ho paura! Ma ce la farò! Vabbè, non è per così piccante! E io ho paura! È normale! Adesso la rompo e la mangio! Sì, così sarà più facile! Oh! Così? Non resta che... mangiare! Perché fa così caldo qui? Oh, no! Sta andando in fiamma! Aiuto! Sennò ci sarà un incendio! Oh! Che drago! Attenta! Cosa? Oh, no! Il mio gelato si è sciolto! Che terrore! Guarda cosa hai fatto! Scusa, non è tutto! Oh, 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 oh! Devo fare qualcosa! Forse il mio Mentos mi aiuterà! E adesso lo massico e... Spendo il fuoco! Oh! Ha funzionato! Cosa? Non è tutto! Ma questo fuoco piglierà! Ok, dai su! Mentos salvaci! Oh! Cosa? Oh, cavolo! Vabbè, dai su! Divertitevi! Io provo a bere il mio gelato! Così! Bello! Uh! Io ho lo zucchero filato! E io ho il cocktail Mars! Povera Molly! Cosa? La jungle toxic waste? Ma stanno scherzando! Ma è troppo! Sandy, vai tu! Col piacere! Oh, sì! È così morbido questo zucchero! Uh, incredibile! Si scioglie in bocca! Siamo felici per te, Sandy! E io ho un'idea! Ta-da! Mi piace? Wow! Sì, che bello! Brava, brava! Sì, e adesso io sono Batman! Ok, vai su! Ok, bene! Ok, proviamo! Oh, sì! Uè, adesso io devo prendere il cocktail con la bocca! Ah, Kate! Ma che fai? Ce l'ho fatta! Scusa, Sandy! È stato bello ed è molto buono! Ma io voglio ancora! Buono, buono! Ok, Molly, vai tu! Sì! Ok, ma no! Cosa? Mi aspetta! No! Cosa? Io ho l'aggiunga più acida del mondo! Cavolo! Devo farlo velocemente e... Non per... Ah! 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 Poveretta! Dobbiamo far qualcosa! Io ho ancora un po' di cocktail! Così, dai! Ah! È stato... Una cosa! Ecco, prendi il zucchero affinato! Prendi! Ah! Ti è piaciuto il video? Allora iscriviti al nostro canale! Qui aspettono sempre delle sfide molto interessanti e divertenti! Ci vediamo! Ciao ciao! 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 Ciao!